buongiorno a tutti vorrei parlarvi oggi di una radio verticale prodotta nel 1934 dalla magnadine italiana si chiama m44 di m44 ce ne sono due tipi di queste in particolare se ne sono viste poche perché la normale m44 aveva al posto di questo sintogramma della scala parlante che di quelli che conosciamo noi normalmente cioè quadrati con cosa che gira normalmente questa radio aveva la scala numerica questa qui è uscita così non si sa perché forse era su richiesta precisa di qualche di chi l'aveva ordinata questa radio ha quattro valvole e riceve solo le onde medie naturalmente per smontarla bisogna usare lo stesso sistema togliere i pomelli togliere il pannello posteriore sbloccare il telaio e estrarlo prima fate una foto e poi togliete le valvole a questo modello in particolare a me manca il pannello posteriore come sapete le radio con il pannello posteriore è la prima cosa che si perde ed è difficile ritrovarlo molti li rifacevano io personalmente li lasciate così com'è che è completa funzionante funziona molto bene e quindi non ci facciamo niente funziona 220 volt bellissimo mobile in legno verticale con questa decorazione questa radio come valore direi che è medio alta non sta nelle basse ma non sta neanche in quelle che costano moltissimo di difficile reperibilità questo modello qui con la scala quadrale perché ne hanno fatto veramente poche quella con la scala numerica si trova più facilmente ne hanno fatto di più quindi 1934 magnadine m44 arrivederci alla prossima radio ciao